Grandi nomi del basket in campo accanto a Federico Franceschin, l'ex giocatore e allenatore triestino malato di SLA. L'associazione Insieme per Fede di Trieste ha presentato le iniziative pensate per promuovere la sensibilizzazione sulla storia di Federico e contribuire con la raccolta fondi a suo favore. Il videomessaggio proiettato stamane dal gruppo è stato realizzato con i contributi di nomi eccellenti del basket italiano ed estero. Abbiamo avuto l'onore e la fortuna di avere dei messaggi dal presidente del CONI Malagò, dal presidente Petrucci, da Dan Peterson, da Dino Meneghin, da Carlton Myers, da Carlo Recalcatti, da Stefano Tenuto, il figlio di Alberto, del nostro vicepresidente e da Matteo Boniccioli. Un insieme di amici che fanno il tifo per Federico per cui li ringraziamo fin da ora e grazie mille. Tre le iniziative previste nelle prossime settimane, volte a coinvolgere il pubblico a sostegno della causa di Federico. Faremo un insieme di attività, le prime due sono delle attività teatrali, grazie all'aiuto di Massimo Marsi faremo un concerto l'8 di aprile alle ore 18.30, si chiama Musica e Solidarietà. Ci saranno artisti come Alessio Colauti, Andrea Binetti. Poi grazie all'aiuto di Gianfranco Pacco saremo al Teatro Salesiani sabato 13 aprile alle ore 20.30. Sul palco ci saranno anche i ragazzi dell'Under 13, delle maggiori società sportive di Palaganestro e Trieste, che parteciperanno in parte a questo spettacolo e poi faranno un torneo il 27 di aprile al Palacalvola con l'aiuto del San Vito Basket. Il tutto si concluderà il primo di maggio con un torneo fatto dagli amici del Domio Calcio per cui anche il calcio sarà presente.